I vertici regionali e provinciali di Forza Italia a Salerno per la presentazione del nuovo coordinamento cittadino del Partito degli Azzurri. Il gran lavoro portato avanti nelle ultime settimane dal coordinatore Giuseppe Fauceglia ha portato ad un nuovo organigramma. Ma le sfide non si fermano qui e guardano anche alle prossime comunali di Salerno. Il metodo è quello che il candidato deve essere scelto nel partito, dal partito, in una struttura democratica di confronto e non può venire dall'esterno, da sfide esterne. Dunque c'è un dibattito interno prima nostro, qui daremo luogo e poi ci sarà il confronto con gli alleati. Naturalmente se qualcuno vuole spaccare il fronte del centro-destra per fare un piacere a De Luca è libero di farlo, non saremo noi. Uno sguardo rivolto anche alle prossime elezioni europee e con la presenza in sala dei due eurodeputati di Forza Italia Fulvio Martoscello e Lucia Vuolo. Quello che invece voglio dire è che questo partito un po' per volta, un po' per volta ma sta crescendo ovunque. A noi mancava la forza di Salerno, mancava proprio avere un coordinamento e una presenza, perché poi siamo gente attiva, non siamo persone che ci fermiamo e aspettiamo. Io voglio ringraziare Guido Milanese prima di tutto perché era il disegnato, poi ha avuto una bella nomina e a quel punto Guido ha detto «Lasciamo comunque che scegliate». E insieme a Fulvio abbiamo pensato al professore Fauceglia, al professore Fauceglia il quale sappiamo bene che è una persona attenta, pignolo, è una persona che a volte si incazza, ma ben che venga il fatto di incavolarsi. Per me, per un progetto più ampio di costruzione del consenso nella città.